Il bisogno delle persone non viene meno in estate e in tempo di Covid-19 la Mensa Menni ha esteso il suo servizio anche alla domenica. L'apertura straordinaria è diventata ordinaria, ma attualmente complice il tempo d'estate, il turno della domenica è un po' in difficoltà. Servono quindi nuovi volontari. La richiesta di impegno è dalle 10 alle 14, con la possibilità di pranzare insieme al termine del servizio. Dopo la riapertura successiva al lockdown di ottobre abbiamo voluto garantire sempre anche il pasto della domenica. Evidentemente però con l'arrivo dell'estate anche alcuni volontari vengono un pochino meno e quindi siamo un pochino in difficoltà nel coprire tutti i turni della domenica. La richiesta quindi è alle persone di buona volontà che hanno la disponibilità anche a farsi presenti affinché possiamo aiutare e continuare a offrire anche un pasto di domenica anche durante l'estate. L'attenzione alle persone senza dimora da venerdì, venerdì 9, abbiamo iniziato anche in mensa le vaccinazioni anti-covid per questi quattro giorni, in modo da poter garantire anche a queste persone la copertura vaccinata. I numeri sono preoccupanti e fotografano una società in continuo affanno dentro a una crisi economica peggiore di quella delle 2008. La pandemia, oltre a mie tre vittime, ha colpito pesantemente le finanze degli italiani e ha messo in ginocchio le famiglie.